Allora, finalmente abbiamo concluso una gara europea con cui mettiamo a sicuro un finanziamento europeo di 40 milioni. Questo ci consentirà di costruire il nuovo ospedale, di raddoppiare l'ospedale Duilo Casula di Monserrato dove potremo ospitare tutta una serie di specialità, ortopedia e traumatologia, dermatologia, l'oculistica, la farmacologia clinica, la genetica. Costruiremo sei nuove saloperatorie che porteranno il campus universitario, ospedale universitario di Monserrato ad un livello di eccellenza. La struttura sarà dedicata non soltanto ai cittadini e ai pazienti ma anche agli studenti, sarà costruita in modo da creare un percorso formativo per i giovani, per gli infermieri, per i tecnici, non soltanto ma anche dedicata alle attività di ricerca di qualità.